Izarik Bal, un 36enne pakistano residente a Senigallia, è stato arrestato dai carabinieri di Fano, sospettato di aver fornito la dose letale costata la vita ad una donna di 32 anni il 20 agosto scorso a Fano. I familiari della giovane avevano dato l'assenso all'espianto degli organi dopo la comunicazione dei medici che per la 32enne non ci sarebbe stato più nulla da fare. Con la collaborazione del compagno della vittima e grazie ai tabulati telefonici della coppia, i militari sono risaliti in meno di una settimana all'identità dell'uomo incensurato e di professione pusher. Ora, dopo diversi pedinamenti, è indagato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli investigatori infatti hanno trovato otto dosi di eroina già pronte, nascoste tra la ghiaia, sotto un albero della sua abitazione. Sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione, circa 180 euro considerati proventi dell'attività illecita. Dopo la convalida dell'arresto, il pakistano rimarrà agli arresti domiciliari in attesa del processo. Abbiamo iniziato i servizi di osservazione su Senigallia, luoghi in cui potevamo accertare provenivano sia da dove lui riceveva le telefonate e da dove provenivano anche alcune di queste. Da lì scoprire i luoghi dove avvenivano gli appuntamenti, dove avveniva lo scambio della sostanza stupefacente, la vendita, che potevano essere quello della stazione ferroviaria, zona centrale, del parcheggio del Luna Park, comunque tutte le zone centrali e vicinissime a quelle che successivamente, una volta individuato il soggetto, è stato anche importante quello di trovare anche l'abitazione di questa persona. Il dato preoccupante, come riferito invece dal comandante della compagnia di Fano, Alfonso Falcucci, sono i casi di decesso per assunzione o consumo di eroina acquistata sul mercato ad un prezzo in drastico calo che va dai 16 ai 20 euro al grammo. Per quanto riguarda la città di Fano, c'è una controtendenza nazionale con un aumento del numero delle morti per overdose. Dal 2014, infatti, sono decedute quattro persone, di cui tre donne e un uomo. Si sta indagando anche per verificare se c'è un collegamento tra il pusher finito in manette e il papà, 33 anni di Marotta, deceduto il mese scorso, sempre per overdose, in un'abitazione del centro storico di Fano. I militari hanno registrato inoltre un ritorno all'eroina non iniettata ma fumata e spesso la morte è una conseguenza della sostanza tagliata male. Soprattutto con quest'ultima formula, quella dell'assunzione fumando l'eroina, ha avvicinato moltissimi giovani e quindi questo lo rende ancora più preoccupante perché si ha la convinzione che questo non crei dipendenza. Non è assolutamente vero.